L'Inter ottiene un piazzamento importante nei quarti di finale di Champions League pareggiando con il Benfica. Sia l'allenatore Simone Inzaghi che il vicepresidente Avier Zanetti hanno mostrato fiducia nella squadra e nella sua capacità di passare al turno successivo. Ciao famiglia Nerazzurra, benvenuti nel nostro canale di notizie sull'Inter. Oggi abbiamo una notizia bomba da condividere con voi, il sorteggio dei quarti di finale di Champions League. E indovina cosa? La nostra amata Inter affronterà il Benfica in un'epica battaglia che si preannuncia entusiasmante dall'inizio alla fine. Il vicepresidente dell'Inter, Avier Zanetti, ha già commentato il sorteggio, affermando che i Nerazzurri sono pronti a lottare per il titolo. E anche il tecnico Simone Inzaghi si è mostrato fiducioso sulla sfida imminente, elogiando la squadra portoghese e ribadendo l'importanza della competizione. Senza dubbio, saranno due giochi meravigliosi che lasceranno tutti noi con i capelli dritti. L'Inter ha tutte le possibilità per assicurarsi un posto in semifinale. Iscrivetevi già al canale e attivate la campanella, perché vi porteremo tutte le notizie e le informazioni su questo imperdibile confronto. Andiamo alle notizie di oggi. Inzaghi ha evidenziato le qualità del Benfica, squadra forte e tradizionale che ha vinto il proprio girone giocando molto bene. Prevede che saranno due partite meravigliose con una grande atmosfera e la giusta tensione per eguagliare l'importanza di questa competizione. Dal canto suo, Zanetti ha raccontato la storia della sfida tra Inter e Benfica, che risale alla finale di Champions League del 1965. Spera di onorare quella tradizione con una bella prestazione nei quarti di finale. Pur riconoscendo che l'assenza di Otamendi potrebbe essere un vantaggio per l'Inter, Zanetti sa che il Benfica è ancora una squadra molto forte e che la vittoria non sarà facile. Si aspetta che l'Inter faccia del suo meglio e si prepari al meglio per la partita. Lascia il tuo mi piace per rimanere aggiornato sulle news Inter. Continua. Infine, Zanetti ha parlato della possibilità di un derby tra Inter e Milan in semifinale, che sarebbe importante per il calcio italiano. Spera che questa possibilità diventi realtà, ma sa che ci sono molte partite davanti e che la squadra deve concentrarsi su una partita alla volta. Sei fiducioso che la squadra possa passare alle semifinali di Champions League dopo aver affrontato il Benfica nei quarti di finale? Pensa che l'assenza del difensore Otamendi possa essere un vantaggio per l'Inter. E cosa ne pensi della possibilità di un derby contro il Milan in semifinale? Lascia la tua opinione nei commenti. La tua opinione è molto importante per l'Inter. Lascia il tuo mi piace e iscriviti al canale per rimanere aggiornato sulle prossime notizie dell'Inter qui, fino alla prossima Famiglia Nerazzurra.